E' tutto pronto per l'inizio della contesa. Alma Juventus Fano in maglia bianca, San Benedettese in maglia rosso-blu nei colori tradizionali. Prova a puntare Marconi, oggi preferito a Moretti, non c'è Clemente. Il corso intanto, attenzione Ginestra, fa buona guarda. Alma senza Clemente, impegnato a Viareggio, corner per l'Alma, una man per Davide Borrelli, il cross di Davide, parabola dalla parte opposta c'è Nodari che mette nel mezzo il tiro di Lunardini al volo. Avanza Borrelli, avanza Davide, palla sul destro, mette nel mezzo Borrelli, Marani troppo sul portiere. Va giù intanto Marconi, attenzione, c'è il cartellino rosso, cartellino rosso per un giocatore della Samba, con Marconi che viene steso da un dritto e la Samba rimane in dieci. Attenzione, svolta della partita al minuto decimo nel corso del secondo tempo. Barriera a tre di Paolo Ginestra, il tocco di Paulis, colpo di testa di Tozzi Borsoi. Andrea, Sivilla, Andrea, Sivilla, Andrea, Sivilla, Andrea, Sivilla, 1 a 0, 1 a 0. Corsa, attenzione, la palla è lì, attenzione, è finita, è finita, è finita, Alma Juventus fano, batte San Benetese 1 a 0, la rete di Andrea Sivilla al ventitresimo del secondo tempo.